Ciao ragazzi, oggi ascoltiamo il Team Radio di Sebastian Vettel, che commenta come il suo compagno di squadra Leclerc le condizioni del tracciato di Istanbul e ricorda al suo ingegnere che la situazione sul tracciato è molto simile a quella che ha già trovato in passato sul circuito di Austin nel 2012. Ascoltiamolo! Il suo nome è per un pollo di Bollard, che è stato un pollo di Bollard, che è stato un pollo di Bollard. Ok, è ridicoloso slippere, è un po' come Austin in 2012.